Ricardo e Marco, due studenti della Facoltà di Chimica della Università di Genova, che dopo quattro anni passati sui banchi di scuola a discutere di musica, decidono di provare a formare la loro prima band. Il nome della band viene deciso molto democraticamente durante una lezione particolarmente noiosa in cui decidono di fare un sondaggio e così scegliono proprio questo nome, Insert Coin. La band si configura come una cover rock band e la formazione al momento è quella che vi sto per presentare, ovvero Davide Gugliotta al caillon e alla percussione. Paolo Piongo, voce e chitarra ritmica. Chiara Pirlo, l'auto e voce. Marco Pirlo, la chitarra solista. E al basso, Riccardo Ballarino. Ma Enricchi! Con un brano di un gioco, This house is not for sale, e World of Life, dei Dagger Straits, gli Insert Coin. Canta e suona. Canta e suona. O che ha perso, Ma Enricchi! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì.